benvenuti a tutti e ben ritrovati amici della Trading Room in questa sessione andremo a parlare di eh di costo della vita andremo a parlare del prezzo dei beni di consumo cercando di fare un parallelismo fra gli anni novanta quindi negli ultimi trent'anni per quanto riguarda l'Italia in relazione ovviamente con eh l'Europa e andremo anche a vedere quanto eventualmente sono cresciuti oppure no i salari annuali nel nostro paese negli ultimi trent'anni sempre in relazione con l'Unione Europea e soprattutto andremo a vedere anche come andarci a mettere al riparo dal continuo aumento dei prezzi in modo tale da eh poter insomma garantirci un futuro sempre roseo e con grandi prospettive però prima di tutto questo come sempre spazio alla sigla delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io come si può vedere da questa tabella sono andato a riprendere la variazione percentuale dei salari annuali medi tra il 1990 e il 2020 nei paesi dell'Unione Europea e Ocse e fondamentalmente ovviamente insomma sono tutti guidati in termini di crescita di salari dai paesi che facevano parte se vogliamo del blocco sovietico che comunque sia partivano da una situazione sicuramente meno prospera ecco rispetto a quella italiana tant'è che vediamo che la Lituania in trent'anni in termini di salari ha quasi triplicato i propri salari così come l'Estonia la Lettonia li ha raddoppiati la Slovacchia più centoventinove per cento Repubblica Ceca più cento dodici per cento ovviamente sarebbe un po' ingiusto e anche impietoso per noi fare il paragone con questi paesi i paesi che noi dobbiamo guardare sono sicuramente la Germania piuttosto che la Francia e come possiamo vedere la Germania in dieci anni i propri salari sono cresciuti del trentatré e sette per cento in Francia del trentun per cento in Belgio del venticinque e guardiamo un po' l'Italia guardate un po' meno due virgola nove per cento dal mille novecentonovanta ad oggi quindi significa che fondamentalmente lo stipendio medio dal millenovecentonovanta ad oggi non solo non è cresciuto ma è anche sceso leggermente per darvi un'idea nel millenovecentonovanta mediamente un operaio guadagnava un milione e centomila lire qui mi rivolgo ecco a chi ha qualche anno più di me perché nel millenovecentonovanta avevo solo tre quattro anni quindi non mi posso ricordare però sicuramente voi vi ricorderete e anche per far innervosire se vogliamo un po' di più la mia generazione per avere un paragone rispetto ai costi rispetto ai prezzi dell'epoca come dicevo un operaio guadagnava un milione centomila lire quindi facendo la rivalutazione sono andato a fare la rivalutazione tramite dei siti che ho trovato siamo in circa intorno ai mille cento euro attuali quindi vedete che lo stipendio bene o male quello parliamo di un operaio quindi più o meno quelle sono le cifre anzi in alcuni casi purtroppo siamo anche sotto tuttavia per fare un paragone giusto bisogna capire quanto costavano i beni al consumo perché chiaramente se poi un caffè costava uguale allora si può anche dire che non c'è stato un aumento del costo della vita in questi ultimi trent'anni e sono andato a guardare un pochettino un caffè nel millenovecentonovanta costava settecento lire che con la rivalutazione sono settanta centesimi di euro sappiamo bene che adesso un caffè viaggia ben sopra l'euro un giornale costava un euro e venti adesso siamo intorno all'euro e mezzo il biglietto della metro costava novecento lire adesso anche lì siamo intorno che sono pari a zero virgola nove euro e adesso siamo pari a un euro e mezzo e un chilo di pane costava mille cinquecento lire ovvero un euro e mezzo mentre adesso siamo intorno ai tre quattro euro quindi per farla breve gli stipendi sono rimasti uguali e i prezzi di beni al consumo sono cresciuti di almeno un cinquanta sessanta per cento quindi forse è ingiusto dire che tutto era addoppiato diciamo che però un più cinquanta più sessanta per cento non ce lo leva nessuno quindi questo significa che eh il nostro euro vale molto meno rispetto a trent'anni fa è vero che alcune cose sono scese in termini di prezzi basta pensare alle alle tariffe telefoniche piuttosto che agli apparecchi legati al mondo della tecnologia insomma negli anni novanta un cellulare normale costava un milione e mezzo di lire quindi pari ai mille cinquecento euro di adesso adesso invece con tre quattrocento euro si prende già un buon telefono e quindi è importante eh capire a che punto stiamo quindi al di là però di questi pochi eh di pochi esempi che vanno vantaggio nostro comunque la maggior parte delle cose costano molto di più quindi si può dire che siamo uno dei paesi che sicuramente si è impoverito di più nell'arco degli ultimi degli ultimi trent'anni e eh qualcuno potrebbe dare la colpa al fatto che non lo so in Italia si lavora poco che nei paesi mediterranei per l'appunto si lavora meno rispetto ai paesi del nord ma in realtà non è così perché ho trovato quest'ulteriore tabella che riguarda il quanto si lavora in Europa e vedete che i paesi dove dove l'orario diciamo è più prolungato sono la Grecia dove ci sono 38 ore di lavoro settimanali pro capite quindi significa prendendo tutti quelli che lavorano cioè anche considerando quelli che magari fanno mezza giornata quindi sappiamo bene che di media lavoratore sta sulle 40 ore però se si considera il tutto la Grecia è numero uno con 38 ore l'Italia come vedete è nella top 5 con 33 ore di lavoro settimanali pro capite mentre i paesi più ricchi guardate voi sono quelli che lavorano meno la Germania addirittura solo 26 ore cioè praticamente in media è come se la Germania lavorasse un giorno di meno e guadagna come se lavorasse un giorno di più in pratica in pratica la profezia di Prodi si è avverata ma non in riferimento all'Italia ma in riferimento alla Germania stessa cosa per l'Olanda l'Austria la Francia il Belgio e così via perché allora in Italia si lavora tanto e si guadagna poco è un problema legato alla produttività produttività significa che quelle ore in cui lavoriamo produciamo meno rispetto a chi di ore ne lavora meno di noi quindi è un problema legato alla tecnologia e alla burocrazia quindi tutti quei quegli elementi che sono una vera e propria zavorra su di noi e sul nostro paese quindi dopo avervi angosciato per bene con questo report dei nostri ultimi 30 anni bisogna anche fare un po' un parallelo su quello che sono i mercati finanziari io in particolare siccome non guardo mai ai mercati finanziari europei se non raramente per qualche singola azione magari stavo guardando un po' l'andamento storico dello Standard & Poor's e qui mi riprende il grafico dal 1993 fino ad oggi come vediamo lo Standard & Poor's ha fatto all'incirca un 900 per cento negli ultimi 28 anni quindi significa una media del più del 30 per cento su base annuale certo io sono andato a prendere comunque l'indice che a livello mondiale forse è più cresciuto in questi ultimi 30 anni però è anche il nostro indice di riferimento in tutte le nostre attività poi di trading e le attività formative che andiamo a vedere ma senza andare troppo lontani possiamo vedere anche l'oro cioè anche quello che viene riconosciuto come un bene rifugio l'oro negli ultimi in realtà soli 17 anni è cresciuto di un 270 per cento quindi è in circa una media del 10 15 per cento 15 per cento su base annuale il valore dell'oro perché comunque anche l'oro riflette l'andamento relativo al all'inflazione e ad altri strumenti potrei guardare milioni di materie prime potremmo guardare il petrolio tutto quello che volete fatto sa che i grafici sono tutti così questo perché perché comunque viviamo in un mondo che è assolutamente a base consumista e capitalista quindi è chiaro che i valori dei degli strumenti finanziari tende a crescere nel tempo con però anche delle pesanti battute d'arresto come ad esempio nel 2001 in seguito alla bolla tecnologica dove lo standard pur perse quasi cinquanta per cento è uguale tra il 2007 e 2008 dove perse addirittura all'incirca il cinquantacinque per cento e quindi qual è la mia raccomandazione a chi magari ci segue per le prime volte ecco in questi video la mia raccomandazione è quella di iniziare a educarsi in maniera totalmente autonoma per iniziare a gestire il proprio patrimonio in maniera sicura è ovvio che non si ha la pretesa di fare un 32 per cento annuale come l'indice azionario perché comunque un pochettino bisogna diversificare con magari anche solo cinque o sei strumenti come abbiamo visto con l'oro o con l'obbligazionario ma io vi posso assicurare che portare a casa un sette otto per cento così come facciamo all'interno del nostro investors club dedicando due ore al mese anzi un'ora al mese al mercato è assolutamente possibile e ora è il momento di iniziare a dedicare questo tempo perché purtroppo i prezzi stanno crescendo ancora di più come sapete per via delle della deriva insomma inflazionistica dovuta per l'appunto alla pandemia e gli stipendi non si stanno alzando io penso che questo voi tutti me lo potete confermare quindi mai come oggi è assolutamente fondamentale iniziare a prendersi cura dei propri risparmi e quindi vi invito a guardare anche la playlist che trovate qui sul nostro canale di youtube dedicata proprio all'investors club sono sei video da dieci minuti l'uno che vi introduce a quell'attività di investimento sugli etf dove chiaramente il nostro primo obiettivo è quello di investire un poco per volta ogni volta che il mercato storna al fine di avere alla fine dell'anno questo sette otto per cento senza dover sudare sette camice ma soprattutto avendo il pieno controllo sui propri risparmi io vi ringrazio come sempre per l'attenzione se il video è piaciuto mettete un mi piace condividetelo iscrivetevi al canale vi aspetto alla prossima ciao a tutti